Noi leggeremo il giorno del diretto di Danciclotto come mondo spenso. Solo eravamo e senza alcun sospetto. Per chi siate gli ottici sospinze dell'avventura escono oggi il viso, ma solo il punto su quel che ci vince. Quando leggeremo il visiato il viso, esso impasciato da tutt'altro amante, questo che mai da me non sia il viso, la bocca mi lasciò il prevenante. Galeotto fu il libro e ti lo scrisse. Quel giorno più non mi leggerimo amante. A presto. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.